si riparte fermati qua allo stop guarda il tabellone non c'è scritto ah si, Livorno 14.30 da Corsica Ferry, sala P2 devi andare P2? si no, che dopo mi fa ancora peggio siamo pronti per imbarcarci per Livorno no, che dopo mi fa ancora peggio non c'è non c'è Grazie a tutti. 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 Perché la Corsica ci è piaciuta tantissimo. E dopo 4 ore e mezza di navigazione siamo giunti a Livorno. Come potete vedere, laggiù si intravede il porto di Livorno. Quando una nave entra nel porto, un'imbarcazione detta pilottina conduce il pilota dal porto alla nave. Quando la nave in partenza esce dal porto, invece la pilottina recupera il pilota e lo conduce di nuovo al porto. E' un'imbarcazione. 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 E con questo bellissimo tramonto alle nostre spalle noi rientriamo a casa ci aspettano altre 4 ore e mezza di viaggio